Ecco di nuovo Romanna, è risalito alle 19. Sì, ma tra le 13.30 e alle 19, questa è ridiscesa un'altra volta. Però non sappiamo l'orario preciso, perché non c'è la telecamera della discesa. Sì, ma alle 19 il Gion poteva essere già morto. Quello è salito, l'ha fatto fuori ed è risceso per farsi in alibi. Esatto. E adesso che facciamo? Chiamiamo i francesi? No, non ancora. Prima ci serve la guida alpina. Mamma mia, che bordeo! Potrebbe essere peggio. Potrebbe piovere. Pio... 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 Grazie.